4 punti Italia, 4 punti Lussemburgo, doppio confronto la settimana prossima decisivo presentiamo queste due partite, come arriviamo a questo doppio impegno? Beh innanzitutto devo dire che non vediamo l'ora che arrivi il giorno di giocare questa partita perché sapevamo che poteva andare così, che sarebbe stata la partita decisiva la stiamo preparando bene come il nostro solito, lavoriamo tanto, abbiamo fatto qualche video arriviamo alla pari, abbiamo il 50% di passare il turno e il 50% di non passarlo noi ci crediamo, andiamo là per vincere già là in Lussemburgo Di che avversaria parliamo? Sì abbiamo qualche notizia, sono una squadra ampiamente alla nostra portata non sono niente di speciale ma come del resto noi, siamo squadre di livello basso in Europa ripeto, andiamo là per vincere la partita, possiamo vincere là, possiamo vincere qui non abbiamo paura di loro, ma loro non avranno paura di noi siamo, ci equivaliamo, quindi dobbiamo solo, chi avrà più voglia di vincere porterà a casa 3 punti La gara di ritorno si gioca in casa, Siracusa può essere un vantaggio a tuo avviso? Sì sicuramente perché le ultime volte che siamo stati in Siracusa sempre il pubblico è stato numeroso, un buon pubblico quindi faccio l'invito a tutti i seracusani e non di venire al palazzetto a darci una mano